luna non toccatemi la luna imperfetta e preziosa come la terra ciao a tutti io sono stefano colli in artemisial musico l'interpreto galileo galilei un ruolo un ruolo molto importante di grande responsabilità perché come ben sapete è considerato il padre della scienza moderna ha avuto un ruolo fondamentale nella rivoluzione astronomica e anche nella vita di artemisia gentileschi ed è proprio per questo che fa parte di questo bellissimo spettacolo bellissimo progetto legato alla vita di artemisia una pittrice che forse non non l'ha più conosciuta però ha un talento incredibile le hanno dedicato proprio quest'anno una mostra a roma e quindi credo sia importante conoscere la sua opera era un'allieva del caravaggio quindi anche lo scopo l'obiettivo di questo musical è anche far conoscere la vita e l'arte di questa grandissima artista e donna io come vi dicevo interpreto galileo galilei che ha un ruolo fondamentale nella vita di artemisia perché è un po il suo padrino diciamo la la sprona la incentiva a non arrendersi e ad iscriversi a lottare per entrare in questa accademia e quindi hanno una vita per molti versi anche simile perché devono scontrarsi contro i pregiudizi di una di una società difficile e appunto nella prima parte della loro vita in realtà hanno una relazione prevalentemente epistolare e solo in un secondo momento finalmente si incontrano e proprio nello spettacolo c'è la una scena fondamentale e che rappresenta proprio l'incontro fra galileo galilei e artemisia gentileschi in cui ci sarà anche quest'aria che vi ho accennato poco fa terra e luna di cui io mi sono subito innamorato mi ha assolutamente rapito ma oltre a galileo galilei interpreto anche un altro ruolo che è quello del giudice in apertura del secondo atto perché come non so chi di voi conosce la storia di artemisia gentileschi però ci sarà un processo molto importante perché orazio gentileschi il padre di artemisia accusa agostino tassi di di stupro appunto e ci sarà questa questa scena secondo me molto bella che rappresenta il il processo io sarò il giudice che decreta anche la la sentenza definitiva però per conoscere questa sentenza io vi aspetto a teatro dal 7 ottobre tutti i sabati e le domeniche pomeridiana e serale doppia replica e tutti i giorni di tutti i weekend e al teatro flaiano dal 7 ottobre quindi vi aspetto a roma artemisia musical ciao come la terra non la impedisce di andare avanti non fermatevi in fondo c'è la libertà non fermatevi non fermatevi non fermatevi non fermatevi non fermatevi non fermatevi